Eccolo qui, sta rientrando, mentre qui siamo con il GPM con gli inseguitori, Draghi, Baglioni, Galli, sono loro tre che sono all'inseguimento del drappello davanti. Eccoli qui, Baglioni a fare l'andatura è passato davanti a Draghi, anzi scusate, è Draghi che è passato davanti a Baglioni e Galli in terza ruota. Qui invece siamo passati ai 4 km dall'arrivo, 4 km dall'arrivo, occhio perché da dietro arriva Pollini che è rientrato, quindi la situazione è questa. Crescioli, Pollini, occhio perché si è mosso qualcosa, è rientrato da dietro ed è partito subito, non si è neanche voltato, Riccardo Pollini, Zumerle era davanti, il suo compagno di squadra appena l'ha visto partire si è voltato verso gli altri a dire qualcuno lo vado a prendere perché io non ci vado. Quindi vediamo Crescioli con Arzilli e con Peschi, chi si muoverà dei tre? Per ora Peschi è sempre rimasto sulle ruote, l'unico che si è sempre mosso è Crescioli ed è così, dalle immagini vediamo, si è voltata la nostra moto di presa e abbiamo visto che era Giosuè Crescioli che si era mosso subito per andare all'inseguimento dell'atleta della Assali. Stefan Omap, Riccardo Pollini dietro a un compagno di squadra, eccolo lì il cartello a indicare, 4 km dall'arrivo, siamo nelle battute finali. Mai si va verso la conclusione della corsa, Riccardo Pollini in testa dietro un drappello di 5 uomini con un compagno di squadra suo, Zumerle con Crescioli della Pity Shoes e con Peschi della Big Hunter, sta rientrando Crescioli, generosissimo l'atleta della Pity Shoes, è da solo in questo drappello stretto dal duo della Assali, Stefan Omap, sono rimasti dietro, fregati dalla progressione del possente atleta della formazione della Pity Shoes, e cartello di 3 km al termine, la situazione si è modificata con, sono rientrati tutti, anche Arzilli, Peschi, è rientrato Zumerle con Crescioli, 5 atleti al comando, 2 della Assali, Stefan Omap, poi c'è Crescioli a Pity Shoes, Peschi della Big Hunter e Arzilli dello Stabbia, e noi andiamo anche a ricordare alcuni sponsor della gara, occhio, intanto occhio, è partito un'altra volta Riccardo Pollini, posizione aerodinamica per lui, è generosissimo questo ragazzo, ha dato tutto, ha dato l'anima perché si è mosso ancora, si era mosso anche prima in precedenza, vuol provare o ad aiutare il compagno o ad anticipare la volata, si è già messo in posizione aerodinamica, è meno dei 3 km dall'arrivo, ricordavamo degli sponsor come la Tosco Gas di Michi, come il solettificio 2C di Castelfranco, come la Farmacia Checchia di Chiesino Zanese, Borga Bugiana e Chiesa Nuova, della Bronzi Anniva, le costruzioni e le strutturazioni di Chiesino Zanese, della Fairpoint di Via Lama a Chiesino Zanese, mentre con le immagini sempre sul battistrada, Riccardo Pollini, bravissimo e generoso, questo atleta ha dato tutto, è stato in fuga tutto il giorno, è stato uno dei primi ad attaccare, lo ha portato lui via, diciamo, il drappello di uomini, 2 km al termine, passato ora il cartello dei 2 km al termine, sempre da solo, Riccardo Pollini è un buon vantaggio, è perché dietro anche Crescioli, intanto ultimo chilometro, ultimo chilometro con l'atleta della Sally Steffen Omap, dicevamo che è stato lui a portare via quel drappello di uomini, di 15 uomini che hanno animato la corsa, perché era da solo, in solitaria, si è fatto riprendere, è andato avanti, è rimasto nel drappello davanti, e poi ha dato veramente tutto, o per il compagno da solo, intanto all'ultimo chilometro si trova da solo al comando, è stato generosissimo questo ragazzo, si volta ogni tanto per controllare la situazione, se dietro, se ce la può fare, perché ormai siamo nelle battute finali per l'atleta della Sally Steffen Omap, tra un po' andremo con le immagini dalla telecamera fissa per vedere l'arrivo, se ce la fa, dovrebbe farcela, perché il vantaggio è buono, dovrebbe farcela Riccardo Pollini, si volta, capisce che forse è fatta, se l'ha meritata questa corsa Riccardo Pollini, ha fatto veramente tutto il possibile, ha attaccato anche quando non c'era da attaccare, si è dannato l'anima, è stato non solo generoso, ma coraggioso, si volta, vorrebbe già alzare le braccia, forse, eccolo lì, alza le braccia al cielo, capisce che è sua, Riccardo Pollini, vince, della Sally Steffen Omap, ecco qui la volata per il secondo posto, vinto da Lorenzo Peschi, da Big Hunter Beltrami, davanti a Gabriele Arzini dello Stabbia, quarto Giuseppe Crescioli da Pitti Shoes, quinto Enrico Baglioni dello Stabbia, sesto Emanuele Galli, campione provinciale di Pistoia della Team Franco Ballerini 2C, settimo Lorenzo Zumerle della Sally Steffen, ottavo Guido Draghi dello Stabbia, nono Mattia Veneziano della Big Hunter, decimo Flavio Santucci del Casano, con l'arrivo anche del campione regionale Antonio Tiberi, con la vittoria di Riccardo Pollini, possiamo andare alle interviste con i protagonisti della gara. Il vincitore Riccardo Pollini della Sally Steffen Omap, oggi hai fatto un grandissimo azione, eri da solo, ti sei fatto riprendere, avevi un compagno di squadra, hai attaccato sull'ultima salita e poi nel finale avevi ancora energie per provarci e sei giunto da solo. Diciamo che sono riuscito a tenere un po' per gli ultimi 2-3 chilometri, so di non essere veloce quindi sapevo di non poter aspettare lo sprint e sono riuscito ad anticipare tutti. Ringrazio il mio compagno di squadra che mi ha fatto il buco in due occasioni, la prima non è andata bene, la seconda sì. Ringrazio tutta la squadra perché sono stati eccezionali oggi. Ecco grazie, ti lasciamo andare perché per cambiarti e tutto è stato un grandissimo caldo, ringraziamo Riccardo Pollini e complimenti per questa bellissima vittoria che hai ottenuto. Lorenzo Peschi, seconda posizione per te, oggi siete riusciti a entrare nella fuga giusta, prima si è mosso Veneziano, poi sei arrivato te da dietro, sei stato bravissimo perché nella salita finale sei riuscita a reggere il forcing di Arzilli, si vedeva che volevi arrivare in volata, eri sempre lì sulle ruote giuste, ti muovevi con intelligenza, quell'azione finale ti è sfuggita. Sì, veramente abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra, si tornava da un ritiro in altura che è stato molto produttivo a livello anche di gruppo, comunque di squadra, oggi si è visto, ci siamo mossi in modo perfetto e poi qua all'arrivo devo ringraziare Mattia perché ha fatto veramente un ottimo lavoro, però sono stati bravi i ragazzi della Stale Steffen e hanno fatto un bel gioco di squadra. Gabriele Arzilli qui in studio con noi, terzo classificato oggi, oggi avete mosso veramente tutte le pedine possibili, avete fatto un gioco di squadra per isolare la Franco Ballerini in tutto e per tutto come fate sempre. Nel finale si è visto che avevi tante gambe perché sull'ultima volta del Poggio Baldino hai forzato in maniera forzennata, eravate via in quattro, non c'è stato accordo però. Sì, tutto il giorno stavo bene e l'ultime tre volte da salita più o meno ho cercato sempre di attaccare per vedere come reagivano gli altri e l'ultima volta ho cercato di attaccare più decisamente, però siamo rimasti comunque in tre o quattro, poi sono rientrati da dietro con due miei compagni e il problema è che davanti erano in superiorità numerica, erano in due, e quindi partivano uno alla volta e non siamo riusciti a coprire questi scatti e alla fine un atleta è andato via da solo e quando sono rientrati i miei compagni purtroppo non ci siamo capiti e questo qua è arrivato e poi ho fatto terzo in balata, il secondo in balata e ho fatto terzo. Emanuele Galli, oggi è toccato a te tenere alto il nome del team Franco Ballerini, niente Tiberi, niente Butteroni, come nel primo trofeo a Monsumano Valdibrana l'hai tenuto alto, era anche il campionato provinciale, sei riuscito a vincerlo, forse è mancato un po' di ingegno per seguire Riccardo Pollini. Sì, sono mancate molto le gambe nel finale perché non ero riuscito inizialmente a prendere la fuga, sono voluto rientrare successivamente quasi da solo e avevo speso molto. Quando sono poi rientrati gli altri da dietro sono iniziati a scattare, sono mancate le gambe, ho perso i primi, siamo rientrati sul gruppetto davanti nel finale ma non c'è stato verso di riprendere il ragazzo davanti e dietro in volata le gambe non c'erano granché.